carissimi amici e amiche bentornati abbiamo una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di gloria polo sappiamo che questo è un ciclo di catechesi molto importante anche se molto forte la volta scorsa gli argomenti sono stati abbastanza impegnativi annuncio subito che oggi lo saranno altrettanto se non di più quindi ci ci prepariamo perché d'altronde questo questo è quello che ha vissuto questo è quello che ha visto questa nostra sorella questo è quello che trasmette siamo ancora cominceremo oggi ancora dentro il tremendo capitolo dedicato al all'orribile delitto dell'aborto e purtroppo non è ancora non è ancora finito anzi ripeto che proprio l'incipit di questo nostro viaggio di questa sera sarà ancora più impegnativo per certi aspetti quindi va bene comincio subito con con la lettura dico soltanto che ci siamo lasciati con l'immagine drammatica del sangue di questo figlio strappato prematuramente alla vita che macchia l'anima anche di gloria come d'altronde quella del medico e di chiunque coopera all'aborto del figlio e di qualunque altra creatura e conseguenza di questo che perse quasi con totalmente la capacità di riflettere la luce divina divenne nera c'è il sangue di mio figlio poi confluì nel mare di sangue innocente che sommerge la terra ed è maledicendola perché il sangue innocente attira la maledizione e ed essa si scosse nelle sue fondamenta quindi questo è figlioli miei cari quindi può sembrare un discorso un linguaggio molto duro molto crudo ma adesso riprendiamo andiamo a vedere il sequel perché il sequel è peggio come già vi accennavo allora mentre vedevo nel libro della vita l'atroce scena appena descritta mi fu mostrato in visione il mondo demoniaco vedi il gigantesco palazzo infernale della lussuria simbolo dell'enorme potere satanico sull'uomo la lussuria è il vizio che slegando la sessualità dalla procreazione apre le porte all'aborto delle vite inaspettatamente concepite da questo palazzo gigantesco quindi palazzo infernale della lussuria già avendo letto sta cosa cioè se uno desse come titolo a questa catechesi palazzo infernale della lussuria solo per questo titolo qualunque cosa uno dice che dico le esperienze fatte su youtube and company farebbe impennare le visualizzazioni immagine veramente forte emblematica direi insomma il palazzo infernale della lussuria da questo palazzo gigantesco un branco sterminato di demoni ferociti migliaia di migliaia gioivano del mio aborto e di tutti gli aborti che si stavano compiendo nel mondo nei giorni scorsi ho visto un tweet io non seguo molto le vicende ogni tanto la problematica perché tweet che adesso si chiama x un uso intelligente di questo se non voglio fare pubblicità certamente però ti consente di dare uno sguardo un volo di gabbiano sulle principali notizie variegate poi non soltanto quelle che danno nei telegiornali generalisti e vedevo insomma che era stata assaltata una sede di una situazione pro vita di jacopo coche se non ricordo male con scritte di ogni genere decido io sul mio corpo e parolacce contro i pro vita dico ecco qua dico immaginiamo le sbudellate dalle risate che sono fatti i demoni no cioè queste cose bisogna dirle bisogna ridessero pure cioè sbeffeggiassero pure ridicolizzassero pure ad essere avvertiti sono sono state avvertite cioè chi chi si fa promotore del diritto d'aborto io sinceramente non gli vorrei essere neanche camicia quando si presenta al cospetto del giudizio di dio se qualcuno gli dovesse capitare di sentire queste cose prima di lanciare gli amatemi contro questo povero pazzo prete magari ci pensi 30 secondi 30 non dico troppi se dovesse imbattersi perché gli algoritmi di youtube fanno fanno strani scherzi oppure potrebbe anche succedere che qualcuno sente magari linka una roba del genere per far per far inferocire queste persone guarda guarda qua il prete che va dicendo in giro ecco magari 30 secondi se sa mai no potrebbero essere la salvezza della propria anima 30 secondi no perché i demoni gioivano del mio aborto e di tutti gli aborti che stavano compiendo nel mondo si vuole dare la ragione al demoni ma tu già una volta scorsa due volte fa marylline manson che adesso si dava per convertito abbiamo dovuto fare le verifiche in diretta ma insomma la come dire la la setta si potrebbe chiamare insomma pseudo cristiana in cui è entrata insomma non è tutto quanto sta sto granché comunque sia prima di queste sue ripensamenti sui concerti c'erano sempre fedi abortiti in background insomma insomma e si sa chi era voglio 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 dargli la buona fede insomma su chi era insomma magari comunque la loro esultanza sentite era superiore a quella di una folla di tifosi in delirio per il successo della propria squadra del cuore avete visto cioè attenzione facciamo così il campionato vinto dal napoli perché non risultanza qualunque se uno va a napoli quando il calcando il napoli c'è il campionato penso che superino in deliri qualunque altra città del mondo presumono i napoletani sono unici sotto questo punto di vista ecco facciamo che i diavoli stanno più in delirio che di quando fanno i caroselli a napoli il giorno in cui il napoli dice il campionato ok perché gli aborti volontari conferiscono loro loro ciò di cui hanno bisogno per estendere il regno di satana perché per l'estensione del suo regno c'è bisogno di sangue innocente ma nel mondo cioè il sangue degli innocenti abbiamo capito bene per favore fare un aborto significa contribuire all'estensione del regno di satana perché per l'estensione del suo regno c'è bisogno di sangue innocente come per l'alleanza tra dio con il suo popolo c'è stato bisogno prima del sangue di vitelli di sacrifici dell'antico testamento e poi di quello preziosissimo di gesù così il demonio suggera la sua alleanza con i suoi fedeli per mezzo del sangue degli innocenti per ottenere il quale fa tutte quelle false promesse che nella mente dell'uomo si traducono nelle ragioni apparentemente giustificative di questo orrendo omicidio orrendo omicidio perché l'aborto è un omicidio orrendo perché c'ha delle questo io amici sono ancora condizionato e sono contento da una sana spero sana mentalità giuridica che mi porto come retaggio dei primi studi che ho fatto quando ancora non pensavo neanche notamente di diventare sacerdote cioè io mi chiedo considerando il codice penale quindi la disciplina dell'omicidio volontario e delle circostanze aggravanti come si fa a non capire che l'aborto è un omicidio volontario ma con delle circostanze aggravanti schifose proprio e di una gravità inaudita perché tu uccidi un essere umano innocente che non si può difendere non è che tu prendi una pistola e spari in faccia a un bambino di cinque anni quello potrebbe pure se fosse proprio un super dotato schiva il corpo te toglie la pistola e te la punta contro no contro l'innocente l'indifeso per l'antonomasia prima prima secondo l'elite è fatto da da chi ha il compito di divino di accoglierlo di custodirlo e in cui come dire c'è un aiuto anche da parte della natura perché quando una donna si perpassi normale ha anche un aborto spontaneo anche cioè nelle primissime settimane io dovrei tenerlo conosciuto tantissime di queste storie qui si dispiace diventa questa una tragedia se l'aborto spontaneo avviene un pochino più avanti o addirittura proprio una tragedia grossa quando il bambino comincia a cinque o sei mesi e si muore nel cremo della madre e lo devono estrarre la madre è traumatizzata ordinariamente da una cosa del genere è normale che sia così quindi come non si fa come si fa a non capire che questa è una circostanza aggravante pazzesca e la terza cosa che è un'altra aggravante non indifferente dell'aborto è che tu non sei consapevole cioè che sembra capito cioè non c'è nessuna scena scioccante se non vabbè l'ambiente dell'ospedale ma tutto sommato tu dentro ancora non ti senti niente fuori non senti niente quindi ti puoi dare illusione che non è successo niente insomma non è successo hanno tolto un po' un po' di sostanza organica e è finito il problema insomma si narravi io senti un tempo non so se è un aneddoto o è una storia vera in ogni caso è sicuramente un episodio significativo di questo genere nel senso che c'era un prete a cui una mamma insomma che aveva concepito un altro figlio andò a parlare dice no padre io sto figlio però non lo posso tenere questo lo devo abortire c'erano già due a destra e a sinistra ma quanti anni c'erano? quanti anni c'erano stati due figli? ma uno cinque uno tre possa che c'è un altro figlio adesso dice facciamo un patto ti tieni questo e prendi una pistola e spari in faccia uno degli altri due ci stai? tanto uguale no? il problema è che non vuoi il terzo vabbè te prendi l'ultimo e spari al secondo oppure al primo no? cioè sono esempi un pochino borderline un pochino estremi ovviamente quella donna non ha sparato né al secondo né al primo figlio e si è tenuto al terzo questo era la morale dell'aneddoto insomma no? l'aborto è dunque un autentico sacrificio umano a satana chiaro? l'aborto così come anche l'uso di feti abortiti e materiale proveniente da questo da questo mondo in campo medico non si devono fare queste cose qui a nessuno stadio l'aborto è un autentico sacrificio umano a satana sto leggendo eh io sottoscrivo ovviamente ma sto leggendo nel momento in cui compie un aborto il medico auguri eh volente o nolente ah ma lui è lui è lui è come dire non vorrei adesso fare a fare noi per non mancare alla carità perché ci sono dei soggetti che sono emblematici lui è l'illuminato della situazione quindi è l'adulto che si è svincolato insomma anzi è anche il benefattore dell'umanità queste poverine chi è che le aiuta comunque sappia questo medico che volente o nolente funge da sacerdote offerente di questo culto per forza perché un sacrificio necessita di qualcuno che lo offra io offro tutti i giorni un sacrificio eucaristico sono sacerdote la vittima non sono io è il nostro signore Gesù Cristo ma c'è bisogno di qualcuno che la offra il padre e chi è che offre l'aborto chi lo compie cioè chi materialmente lo realizza quindi funge da sacerdote offerente di questo culto nel quale viene ucciso non un essere umano qualunque ma un essere che per il suo grado di innocenza e intelligenza è ciò che maggiormente si avvicina a Gesù agnello senza macchia un bambino un 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 feto che ha già l'anima è per autonomia l'innocenza stessa è vero che c'è il peccato originale che gli inerisce come proprio e quindi che deve essere tolto dal battesimo ma il peccato originale non priva come dire dell'innocenza priva della visione beatifica se uno muore senza essere tolto quello sì ma non dell'innocenza perché è evidente che nessuno ha colpe personali per il peccato originale commesso dai nostri progenitori quindi un essere che Gesù pone a noi umani adulti come modello da imitare in verità io vi dico se non vi convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli vorrei fare un pit stop insomma per tornare un attimo sull'immagine del palazzo infernale della lussuria e qui vorrei permettermi per capire forse un po' meglio queste cose di dare un'occhiatina al ciclo di catechesi che ho fatto l'anno scorso due anni fa boh sul peccato originale come l'origine di ogni male perché tutti quanti questi aborti adesso che stanno ricoprendo di sangue la terra da che cosa dipendono? da un da uno da un dilagare che è è una dica che si è rotta dal 68 in poi della sessualità sfrenata e su questo i figli di Dio degni di questo nome ma non fanno non fanno neanche mezzo centesimo di sconto e tra l'altro non ci hanno paura di niente di nessuno nel come dire nell'andare a diffondere e difendere tutto ciò che ha a che fare con la purezza e con la castità perché se uno fosse capace se uno entrasse nell'ottica perché questa è l'ottica che la sessualità si vive solo all'interno del sacramento del matrimonio e non può essere per nessun motivo nessuno sganciata dalla sua dimensione anche procreativa e su questo i figli di Dio non possono come dire derogare ma nemmeno di una virgola e appena si esce da questa regola si pecca sempre mortalmente cioè si va dritti sparati all'inferno nel poco come nel molto io faccio molto molto cioè la faccio molto semplice anche quando parlo cioè se una persona è sposata gli dico tu sei sposato non è che c'è una grandissima differenza tra te e me tutto sommato quante donne ci stanno nel mondo 5 miliardi esageriamo va bene per te ce ne stanno una e 4 miliardi 999.999 come se ci fossero non esistono non ci stanno non sei sposato ah se non sei sposato sei proprio tale quale a me soltanto che la differenza che mentre io ho promesso di rimanere così per tutta la vita tu se dovesse capitare altro per carità puoi puoi non farlo se chi mi ascolta pensa che queste siano esagerazioni sappia che non sta vivendo nella fede divina e cattolica sta vivendo in qualcos'altro sta vivendo qualcos'altro non è la fede divina e cattolica andate a vedere nel corso della storia della chiesa come la chiesa ha trattato questo argomento come l'hanno trattato i santi cosa hanno scritto i papi andate a leggere la casti connubi per esempio di Papa Pio XI tanto per dirne una che a me è una delle cose più belle che si è stata scritta per esempio sulla castità coniugale che un sacco di gente ignora anche che cosa sia il matrimonio non è cioè vabbè adesso abbiamo fatto il matrimonio bene tana libera tutti no non è tana libera tutti il matrimonio apre alcune porte limitate non è tana libera tutti cioè a lei no non è a lei non lo è e il fine procreativo che era è e sempre resterà il fine principale del matrimonio è ciò che giustifica in maniera primaria l'atto sessuale e ascoltando le catechesi sul peccato originale si capisce perché perché i padri della chiesa non le rivelazioni private mica uno solo pensavano che lo stato voluto da dio per ogni essere umano lo stato di giustizia originale fosse uno stato virginale significa che nella mente di dio la vita sarebbe nata non come nasce adesso non sappiamo come ma non come nasce adesso e che il peccato originale ha a che fare con questa violazione adesso non posso rifare tutto quanto il ciclo di catechesi 33 catechesi dove si segue passaggio per passaggio che si sono tutti nati gli argomenti chiaramente non ci sono le prove assolute ma ci sono una montagna di argomenti che chi l'ascolta li segua e poi veda se li convincono oppure no perché io non è che a me che mi torno in tasca di niente a fare una roba del genere io quando ho detto quelle cose sono rimasto con due occhi così perché sono come dire altamente significative per comprendere bene come stanno certe cose allora proseguo perché qui non è ancora finito tutto quanto l'ambaradan e i brindici dei demoni col fare calpestare queste vite nascenti sto di nuovo leggendo e le loro qualità i demoni ottengono prima di tutto che i loro sudditi divengano refrattari al fascino spirituale dell'innocenza e siano indotti a non fare proprie le virtù angeliche dei bambini quali sono? l'amorevolezza l'umiltà la semplicità l'abbandono fiducioso in Dio che cosa intende Gesù in verità se non mi convertirete non diventerete come bambini questo che significa diventare bambini non fare i bambini neonati e su questo c'è un repertorio che non finisce mai da parte di quarantenni cinquantenni sessantenni che si comportano peggio dei bambini di dieci anni per certe dinamiche relazionali che ci hanno questo non è certamente il senso evangelico ma sono appunto queste virtù l'amorevolezza l'umiltà la semplicità l'abbandono fiducioso in Dio virtù che fondano il rapporto sano con Dio che ci rendono luminosi e ci portano in cielo il sangue dei bambini innocenti ha inoltre una straordinaria sentita ripercussione sociale poiché esso è come una chiave che permette al demonio di aprire le serrature dei portali infernali dai quali fare uscire ogni tipo di demoni che oggigiorno infettano sempre più l'umanità allontanandola dalla verità non solo evangelica e quindi sopranaturale ma anche naturale cioè qui ragazzi bisogna farsi tutti quanti un esame di coscienza scusatemi se sono un po' perché poi prima di andare a lamentarsi o a sbraitare o a disperarsi per tante cose non è che forse c'è concorso pure tu perché se tu hai fatto o cooperato formalmente a questa roba qui guarda che tutto il disastro che stiamo vedendo in giro perché il disastro che stiamo vedendo in giro a tutti i livelli politico sociale economico ecclesiale ma da che cosa dipende secondo voi dal fatto che i demoni sono scatenati che hanno un potere enorme hanno una capacità di come dire di controllo di influenza immensa come forse non c'è mai stata e perché perché qualcuno gliela data il demonio non può fare niente se noi non gli diamo la carta bianca lo capite questo qui i demoni non possono fare quello che vogliono perché Dio non glielo permetterebbe se noi non gli apriamo le porte con dei peccati orribili che gli danno potere i demoni non ci possono fare niente siamo noi siamo quindi prima di andarsi a lamentare o a sbraitare o a lanciare gli anatemi per carità ci sono tanti motivi per poterlo fare è stato un attimo tranquillo perché se tu avessi concorso in qualche modo su questo qui non è che con questo vai a dire vabbè benediciamo l'orrore no non benediciamo quello che c'è sta in giro però state un attimo tranquillo cioè oltre che lamentarti e sbraitare e fate un pochino di battere il petto perché questi peccati qui per questi bisogna fare penitenza abbiamo già tolto a lungo il fatto che il signore sia misericordioso per carità e ti perdona se sei pentito e tu anche devi perdonarti se lui ti perdona ma non significa che quella compunzione profonda quindi quel senso dice sì ma perdonato e mi devo perdonare però dopo questo mi devo dare una calmata sotto tanti punti di vista se uno legge per esempio Maria Valtorta vedrà che ogni tanto io mi ricordo qualche episodio no c'erano gli apostoli eccetera eccetera ma se per esempio capitasse a Matteo capitare all'apostolo Matteo di cominciare a sdegnarsi un po' troppo su qualcosa è con molta delicatezza nostro signore ma te ti voglio bene insomma però cerca ogni tanto di ricordarti da dove vieni perché non è che tu puoi far far troppo perché non è che tu sei nato santo o sei come San Giovanni e chi è come San Giovanni così come la Madonna cioè quelli che sono più innocenti di tutti sono quelli che meno si scandalizzano sono quelli che dinanzi a situazioni di questo genere più che lanciare gli anatemi e cioè piangono soffrono e pregano e sono quelli che in teoria potrebbero scandalizzarsi più di tutti perché non hanno niente a che fare con il circo con il marasma insomma di situazioni di peccato che danno vita a queste cose no rileggo è a causa di questo nuovo potere demoniaco che prendono più facilmente piede nel mondo sentite eh quelle ideologie inclusiviste sto leggendo che sembrano promuovere l'umanità l'essere inclusivi no ah non bisogna escludere nessuno ma chi l'ha detto che non bisogna escludere nessuno ma dove sta scritta questa cosa qui ma siamo stati ammessi a ieri che era il giorno dei morti ma l'abbiamo sentito Matteo 25 separati buoni e cattivi via da me ma redetti nel fuoco eterno preparati per il Dio e per i loro angeli quindi che vogliamo fare vogliamo accusare Gesù che non è inclusivo ma dico ma io guardate che dinanzi a certe cose io dico ma ma vabbè che siamo nel regno dell'immagine d'accordo del del posto che dopo due ore è già vecchio dell'emozione ricercata a tutte queste robe qui no cioè dico però un minimo di raziocinio sarà rimasto in giro perbacco le ideologie inclusiviste che sembrano promuovere l'umanità ma invece la stanno sempre più rendendo schiava dal peccato e la preparano sentite all'accoglienza del più esteso e grave totalitarismo della storia umana questa donna già la stimavo prima d'accordo ma la lucidità di questa analisi è straordinaria totalitarismo della storia umana chi si lamenta di certi grandi professoroni e e mezzi demoni incarnati i nomi li sappiamo tutti quanti io non vorrei eh eh ulteriormente mettere caro li sappiamo chi sono i grandi burattinai i grandi i grandi manopratori del mondo d'accordo ma siamo noi che ci stiamo consegnando nelle mani di questi non sono questi che ci stanno prendendo il potere su tutti noi siamo noi il diavolo l'unica l'unica grande l'unica grande arte che usa è quella nell'impapocchiare nell'ammaliare nell'ingannare nell'infini sta roba qui questo totalitarismo riprendo a leggere è il più esteso perché mondiale è il più grave perché è fondato su un luogo umanesimo ateo post cristiano e trans umano sapete cos'è il trans umanesimo no? è il superamento della condizione umana grazie ad una sempre maggiore simbiosi tra l'uomo e la tecnologia ok? dando origine ad una nuova tipologia di esseri umani ottimizzati attraverso l'applicazione delle varie tecnologie intelligenza artificiale le nanotecnologie le biotecnologie l'informatica è impressionante qualcuno ha mai pensato che il delitto dell'aborto ci avesse relazione con questa roba qui è bene che ci pensi l'analisi è veramente a mio avviso lucida questa qui i propugnatori di esso di questo mondo ateo post cristiano e trans umano sono i componenti dell'elite mondialista li conosciamo tutti no? non serve fare i miei cognomi illusi di poter un giorno regnare con satana se lo aiutano a realizzare i suoi piani nel mondo non sappiamo quanti di questi sono cooperatori volontari e quanti invece sono soltanto superbi assetati di megalomania che vogliono atteggiarsi a salvatori dell'umanità io non sono in grado di fare un giudizio di questo genere questo lo sa soltanto nostro signore rispetto al giudizio sulle coscienze ma comunque sia questi sono dei cooperatori e dei collaboratori oggettivi di satana e dei suoi disegni questo è sicuro questo qui questa elite attenzione quindi si illudono di poter regnare con satana se lo aiutano a realizzare i suoi piani ma saranno invece da lui torturati in eterno se non si convertiranno dice gloria e io sottoscrivo dieci volte questa elite sto sempre leggendo che si auto percepisce però illuminata e progressista le due grandi il progressismo per diffondere il nuovo umanissimo atio post cristiano utilizzo organismi internazionali uè sembra lei come ad esempio l'unione europea e l'organizzazione delle nazioni unite strano che non abbiano portato a processo in qualche galera o robe del genere sono queste infatti utilizzando una retorica luciferina di cui oggi siamo pieni fino a qui retorica luciferina hanno creato con i loro documenti e qui è citato un articolo sicuramente da leggere perché è il curatore di quest'opera di Flaviano Patrizzi la causa emanente della dilagante ideologia di genere che è una di queste manifestazioni della retorica luciferina allo stato puro hanno cercato con i loro documenti di convincere il mondo della bontà dei nuovi e ingannevoli valori sessuali e riproduttivi guai chi la pensa diversamente guai i ragazzini sono pieni di questa roba qui perché li hanno bombardati andate a parlare con un 16 o un 17enne chiedetegli che pensi dell'omosessualità non degli omosessuali del fenomeno omosessualità fate un sondaggio andate fuori delle scuole chiedete a 100 ragazzini nelle scuole pubbliche normali chiedete io ci sono stato a scuola pubblica so quello che si pensava da parte mia e da parte dei miei compagni ormai sono vecchierello quanto 35 anni fa sembrano passati 4 secoli valori che sono in linea con ciò che loro chiamano sviluppo sostenibile sempre virgolette e poi tentano di introdurre nuovi diritti sessuali e riproduttivi la retorica con cui viene divulgato il nuovo modello antropologico è la medesima retorica che il serpente luciferino luciferino ha sepo utilizzato a cominciare dal giardino dell'Eden per convincereva di sobbidire al comando di Dio considerate bene il serpente di Seva che siccome sarebbe diventato come Dio attenzione diventare come Dio no? ma che significa diventare come Dio? i padri della chiesa avevano il cervello la differenza che cosa significa diventare come Dio? cosa fa Dio che noi non facciamo? Dio crea no? Dio crea e capite attraverso l'attività sessuale nasce un figlio che è proprio tuo quindi se tu stai fuori di un orizzonte di fede di chi è quel figlio? è mio l'ho fatto io quindi è qualche cosa che assomiglia a creare o no? ti dà l'ebbrezza no? questo ho fatto io questo qui ecco il distorto valore il serpente di Seva che siccome sarebbe diventato come Dio avrebbe potuto mangiare del frutto dell'abito della conoscenza del bene del male ecco il distorto diritto omettendo loro che se avessero disobbedito a Dio avrebbero introdotto inevitabilmente il dolore e la morte nel mondo il diavolo ti presenta sempre una parte della verità ecco perché una parte non lasciamoci ingannare da questa retorica luciferina facciamo attenzione ai falsi valori diritti sessuali e riproduttivi e ai loro presupposti morali anticristiani e cioè la diffusione sempre più estesa del relativismo morale il relativismo il grande problema di oggi buonanime di Papa Benedetto XVI si è sgolato per una vita a combattere contro il relativismo voce che gridava nel deserto l'enfatizzazione del piacere della sessualità umana a discapito della sua finalità riproduttiva la contraccezione il processo di normalizzazione per la verità già avviato negli anni settante adesso leggerò una nota assai utile ed esaltazione dell'omosessualità vedi le parate dei gay pride attenzione gay pride peraltro organizzati nel mese di giugno cosa casuale cioè nel mese del corpus domini del sagratissimo cuore di Gesù e del cuore immacolato di Maria e peraltro spesso e volentieri quindi contemporanea in qualche città c'è la processione del corpus domini e nelle piazze principali della città c'è gay pride tutto normale giusto? poi se qualcuno fa una processione riparatrice quello è talebano e è ammalato di mente da ricovero coatto da TSO perché poverini che non fa non fa non fa non fa niente come dire di 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 persecutorio di offensivo fa un gesto doverosamente riparatorio dinanzi al Signore sperando anche che attraverso quel gesto possa magari arrivare una luce la conversione di qualcuno l'illuminazione di qualcuno ma scusate ma noi che cosa dobbiamo fare cristiani e preti e pastori che dobbiamo fare? la svalutazione della maternità quali sono le donne che oggi non vedono l'ora di sposarsi per fare tanti figli contente di essere mamme contente di stare in casa io non c'ho pur di queste cose qui quante sono ma qualcuno forse pensa che io dico ma vedete ma una donna che si ha una famiglia che si apre la vita gli nascono dieci figli e spende la vita con tutti i sacrifici che questo comporta perché poverina cioè una donna si fa nove dieci gravidanze vuol dire che sta novanta mesi con la panza novanta mesi a casa mia l'hanno su dodici mesi insomma è tanta roba e poi devi partorire fa dieci parti il parto io non ce l'ho non lo so non l'avrei mai cosa avuto pur se mi fossi sposato perché sono uomo ma insomma dicono che è la cosa più dolorosa che esiste e poi l'allevamento cioè il bambino piccolo io non ce l'ho ma non so che è deficiente insomma si fa fatica è più capace che piagni non ti fa dormire la notte cioè è bello però comporta tutta quanta una serie di cose ma una donna che fa questo qui ma quando muore dinanzi a Dio ma come si presenta è uguale quella che ha detto eh no ma io eh no io però non posso mica stare a mabili dentro e io dove c'è una vita io però no e mica posso stare a tutta la vita a pannolini e a pentole e a spicca e spanna a pulire per terra e ora io devo dire fuori le mie cose devo fare tante cose quanti pigli hai fatto? uno due padre mio avrebbe dubbio detto gli altri dove stanno? quante pillole te sei prese? quanti preservativi? quanti coiti interrotti? li diciamo tutti stasera eh ok tutto tranquillo? tutto normale? va tutto bene? c'è forse scritto nel Vangelo o c'è qualche dogma di fede o qualche concilio che ha detto che la donna deve lavorare per forza fuori casa non sto dicendo non sto demonizzando questa cosa qui ci possono essere circostanze situazioni io ho conosciuto ho conosciuto persone che poverini poveri mariti disoccupati fortuna che lavorava la moglie se no stavano io spero che si capisca il senso di questa cosa qui il senso globale il senso profondo cioè la svalutazione della della maternità i ricatti che vengono fatti no? perché a quello che dicono cioè sì perché le leggi adesso come dire tutelano la maternità però se tu vengono un'azienda e ti fanno subito capire mica ti metterai a fare tutti i sivigli perché al primo passa al secondo pure al terzo dei licenzi perché io mica posso stare a ogni quarto d'ora a trovare il sostituto per nove mesi la svalutazione della la svalutazione della maternità non è una cosa buona non è ogni vita che nasce e qui faccio di nuovo il consiglio per gli acquisti per un altro ciclo di catechesi che è fondamentale che è il libro di tenera amata ma capite che significa un'anima ma capito ma chi c'ha la vocazione alla famiglia ma con che faccia ti presenti davanti al padre eterno ma delle anime uniche irripetibili sarebbero stati i cittadini del cielo avrebbero allietato con nuovi gaudi la gerusalemme celeste nomi nuovi sfaccettature uniche irripetibili di bellezza e di santità no non ci sono stati perché io mi sono chiusa la vita perché io te l'avevo a fuo di casa vabbè vabbè scelte di vita per carità la promozione di matrimoni tardivi e modelli di famiglia ridotti non è una cosa buona che ci si sposi oggi a 40 anni o a 30 o a 35 anni perché i figli si vanno con una giovane a parte il fatto che penso che tutti quanti sanno che da 35 anni in su è enormemente più difficile che ti vengano i figli più si va avanti con l'età perché insomma più diventa complicato no e quanti sono i matrimoni io ho aggiornato da poco il testo sui 10 comandamenti che sta in stampa sta in pubblicazione e sono dovuto andare a rivedere le statistiche aggiornate sul numero dei matrimoni celebrati in chiesa al comune o al matrimonio e in comune hanno superato da un pezzo perché mi pare che l'ultimo dato del listo sta al 2021 se non mi ricordo male mi pare che stavamo già al 54% contro il 46% dei pochi che si sposano con le convivenze rispetto a 10 anni prima triplicate cioè io so parroco cioè le posso contare sulle punte delle dita le coppie che vengono a chiedere a prima notare il matrimonio che si presentano con due figli io dico sempre questi chi sono? sono i nostri figli dico ah sono i vostri figli eh sì padre abbiamo fatto abbiamo fatto così almeno un minimo di segnale sai com'è per carità il figlio è sempre un figlio dico ma i figli di Dio i figli li fanno 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 dopo il matrimonio dopo non prima matrimoni di questo genere io li ho visti ma io dico veramente che cosa fanno ti sposi con l'abito bianco chiaramente dopo la gente perché anche qui ci si pensa che la gente sono tutti una banda di scemi che oppure di 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 gente che che deve far finta di niente anche dinanzi alle scene proprio di pessimo gusto e che succede facciamo così portano la fede i figli di 3-4 anni che bello no li portano le fede i genitori che caruccia che scena commovente portano le fede i figli ma che bello con l'applauso oh attenzione poi ci manca la chicca che se fosse nato l'ultimo figlio che ci avesse 6-7 mesi nella stessa cerimonia ah ci fanno pure il battesimo poi applausi a go go ok ci manca semplicemente il monumento fuori dalla porta di casa cioè io proprio non cioè non io non non cioè a me non mi stupisce che succedano queste cose a me mi stupisce perdonatemi che ci siano miei confratelli perché perché li ho visti io cioè io ho avuto scene nel in persona a me vicine che si sono ben guardate dal chiedermi di assistere a queste cose perché mi avrebbero mi avrebbero messi questioni io questa cosa mi dispiace voglio bene non la faccio d'accordo però poi chiaramente sono stato invitato e io con gli occhi miei l'ho vista queste cose qui io sarei voluto andare da quel mio confratello prima gli bacio le mani per rispetto al suo sacerdote e gli dico ma ma tu sei scemo da confratello a confratello poi poi il nostro signore mi punirà se vuoi ma che ti dice il cervello matrimoni tardivi e modelli di famiglia ridotti permesso dell'assolutizzazione dei valori della cultura del lavoro e della carriera sentite che dice del buono stipendio del buon tenore di vita dei viaggi del divertimento che inducano dato la precarietà lavorativa attuale a far posticipare a tempo indefinito la costruzione di una famiglia la quale difficilmente potrà essere sufficientemente prolifica da non contribuire all'invecchiamento della popolazione ancora sentite che elenco la confusione dei ruoli di genere all'interno delle famiglie tradizionali che significa dovevo leggere prima una nota dopo torniamo indietro ci sono diverse note da leggere che significa significa che c'è l'uomo che fa la donna e la donna che fa l'uomo se io capisco l'italiano la diffusione dell'aborto libero gratuito senza termini e condizioni cioè io da povero prete fino a quando sarò parroco che ti danno quei quattro soldi dell'istituto del sostentamento del diocesano c'è una ritenuta fiscale anche per i preti e che cosa si fanno con i soldi che ritengono dal frutto del mio lavoro pastorale vanno a finire nel mucchio nel mucchio delle casse dello Stato casse dello Stato che chiaramente pagano gli aborti compiuti negli ospedali pubblici anche con i soldi miei e non ci posso fare niente che faccio faccio l'evasore assoluto è una violenza nei miei confronti è un abuso nei miei confronti perché io non voglio che i soldi tolti dal mio vada alla finanziaria una roba del genere presentato come realizzazione del processo di emancipazione e autodeterminazione della donna che dovrebbe essere sostenuto dal riconoscimento dell'aborto come diritto della donna qualcuno vorrebbe addirittura annoverarlo tra i diritti umani e l'imposizione dell'ideologia di genere che vuole scardinare l'identità di genere dell'essere umano dal sesso biologico come promessa per il transumanissimo io che di questi discorsi se ne soltanto parli in ambienti ecclesiali che cosa dobbiamo fare riguardo a queste cose che cosa dobbiamo fare che cosa dobbiamo fare maschio e femmina li creò è finito d'accordo cioè che queste persone vogliano farne eticare ragionare e farsi le loro cose fuori di un certo orizzonte ma facciano pure se credono sapendo che dovranno rispondere di quello che fanno davanti a Dio sia che ci credono sia che non ci credono ma di che cosa vogliamo parlare leggo una nota a proposito del processo di normalizzazione ed esaltazione dell'omosessualità nel 1974 questo lo sanno tutti l'omosessualità viene cancellato dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM sigla pubblicato dall'American Psychiatric Association nella prima versione del 1952 risultava ancora una condizione psicopatologica tra i disturbi sociopatici di personalità attenzione nei non nelle sagrestie dei preti talebani ma nella manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali degli psichiatri nel 1968 era considerata una deviazione sessuale come la pedofilia catalogata tra i disturbi mentali non psicotici sono dati di fatto questi e ancora nel 1974 sui testi scientifici si parlava di omosessualità egodistonica questo è un tipico linguaggio del mondo della psicologia ovvero quella condizione in cui una persona omosessuale non accetta il proprio orientamento sessuale e non lo vive con serenità questa teoria verrà superata nel 1987 per arrivare poi al 1990 quando anche l'organizzazione mondiale della sanità guarda un po' decide di depennare l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali definendola per la prima volta una variante naturale del comportamento umano vedete che comanda organizzazione mondiale della sanità tutte quante le organizzazioni nate come dire in periodo post dramma seconda guerra mondiale considerate ovviamente come garanti di ogni bellissima cosa e bellissimo valore e sono veramente quelli che danno l'indirizzo politico mondiale secondo la loro agenda o per quanto invece poi riguarda la progressiva depenalizzazione dell'aborto altra nota le varie leggi che nel mondo hanno depenalizzato l'aborto non hanno sancito il diritto della donna all'aborto ma la prevalenza del diritto alla salute della donna sul diritto alla vita del nascituro giocando sul nuovo concetto luciferino di salute adottato all'organizzazione mondiale della sanità per la quale la salute non è assenza di malattia guardate che roba ma completo benessere fisico mentale e sociale quindi capite no attualmente non esiste un diritto internazionale all'aborto sebbene nei documenti ONU si utilizzi un linguaggio ambico che può indurre al fraintendimento questo è un paragrafo lunghissimo non ce la faremo a finirlo oggi anzi direi leggiamo l'ultimo capoverso troppi pensano erroneamente che tali cambiamenti culturali siano frutti di un progresso naturale dell'umanità essi sono invece scientemente introdotti nella società dai governi delle nazioni firmatarie delle disoluzioni ONU sono introdotti come strumenti di ingegneria sociale miranti in ultima analisi pur nella mancanza di consapevolezza di molti suoi attori a generare una nuova coscienza pubblico universale post cristiana e a ridurre la popolazione mondiale questa è la terribile e attuale omissione luciferina lo dice Gloria Polo poi se qualcuno la volesse accusare sicuro perché non si dicono queste cose chi è questa complottista 100% complottista questa vede le cose ma qui non si tratta di essere complottisti qui si tratta semplicemente di vedere come stanno le cose e semplicemente collegare il cervello che il nostro signore ce l'ha dato non perché ce lo mettiamo sotto i piedi ma perché lo facciamo funzionare perché dinanzi a certi dati oggettivi sono citati una serie di dati non è che ci vuole non è che è tanto difficile ricostruire ciò che è stato ciò che è e ciò che si vuole fare non è difficile è chiaro che chi ci ha interesse a non essere scoperto perché sapete che il diavolo così come i suoi collaboratori al diavolo piace giocare a carte coperte nell'ombra non vuole che sia sgamato e quindi che cosa succede la butta in caccia chiunque o ti ridicolizza o sei ridicolo o sei talebano o qualcosa lo dicono a me oppure sei complottista sei questo sei quest'altro capite in modo tale che tu perdi ogni credibilità e vieni relegato come il matto di turno come lo squilibrato insomma il fuori di testa uno che sta fuori del mondo e così la narrazione propagandistico dominante del pensiero unico va avanti tranquilla indisturbata con l'applauso e la coscienza di tutti capite e questa è una insomma che delle trame diaboliche penso che anche sulla pelle sua ne ha conosciuta qualcuno ci aggiorniamo alla prossima settimana amici Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegge grazie